E' stato un grande piacere aver avuto la possibilità di ospitare il commissario straordinario dell'ente nazionale italiano del turismo. Io mi auguro di averla ancora, di averla qui, perché questa è una terra che ha deciso che il turismo rappresenta una delle direttrici, forse la più significativa, sulla quale declinare il proprio sviluppo. L'abbiamo fatto non perché l'abbiamo scelto così, nel chiuso di qualche stanza, abbiamo deciso che questo era il modello di sviluppo di questa terra. Questa terra e questa comunità l'ha deciso in modo aperto e trasparente, approfittando di un processo straordinario di interpello delle volontà e delle prospettive di questa terra. Noi abbiamo per due anni inseguito il sogno di diventare capitale europeo della cultura, non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a un passo dal traguardo finale, all'ultimo miglio siamo stati superati da Matera. Però questo ci è servito perché abbiamo aperto un nuovo modello di interlocuzione tra la comunità, tra i singoli e la pubblica amministrazione, tra i singoli le associazioni e la pubblica amministrazione, insieme si è deciso qual era il modello di sviluppo sul quale puntare. Per cui avere il commissario straordinario dell'ENIT per noi oggi è un'ghiottissima occasione. Quindi mi auguro che ci sia la possibilità in futuro, so che lei è in partenza immediata, però ci sia la possibilità in futuro di averla qui. Primo perché uno non può fare il commissario straordinario dell'ENIT se non conosce l'Eccenza Lento, mi scusi. Per cui questo le serve per corroborare il suo curriculum. Secondo perché questa terra ha bisogno di un'interlocuzione istituzionale, autorevole, per costruire progetti e attività. Perché, come giustamente ha detto lei, sappiamo di essere in un mercato globale assolutamente competitivo. Questa è una bella terra, è una terra che ha degli asset importanti da proporre, ma sappiamo che la concorrenza è una concorrenza spietata, globale appunto, e noi vorremmo rafforzare la nostra proposta, la nostra proposta turistica e culturale. E su questo ci stiamo muovendo, anche creando quelle alleanze utili a rendere tutto ciò possibile. E diciamo che l'attività che oggi presentiamo con questo convegno va assolutamente in questa direzione. Il Comune di Lecce è stato tra i primi a sposare la filosofia degli open data come possibilità ulteriore di crescita. Avevamo immagazzinato una serie enorme di informazioni, l'abbiamo messa a disposizione del territorio, abbiamo messa a disposizione delle imprese, dei professionisti, dei giovani. Non soltanto per offrire noi un servizio ulteriore, ma anche per metterci in condizione di avere da questo territorio, da questa platea, anche un feedback positivo. E questa è esperienza straordinaria. Il fatto di decidere, di mettere a disposizione dei dati e attraverso un'attività di conworking, chiedere al territorio, ci date qualche idea. Fino adesso si è ragionato, secondo un modello strano, cercare di interpretare il bisogno e poi i deputati alle politiche amministrative, alle politiche locali, costruivano una risposta a questo bisogno. Già la capacità di ascoltare, nel manuale del perfetto amministratore, già essere in grado di ascoltare e in grado di proporre delle risposte al bisogno che viene da quell'ascolto, già sei, diciamo, un livello sufficiente nella scala valoriale. Ma non è sufficiente, perché noi attraverso questa procedura invece noi chiediamo, non solo cerchiamo il bisogno, ma stimoliamo una risposta del bisogno che viene proprio da chi quel bisogno ha creato o, come dire, ha segnalato. Le applicazioni che hanno partecipato a questo concorso, 40, quanto sono state le proposte progettuali, 40, la stragrande maggioranza interessantissima, perché ci permettono da una parte di salire l'asticella sui livelli di servizio che la pubblica amministrazione può offrire, o comunque che il territorio può offrire. Servizi che sono, ovviamente, attraverso l'utilizzo di tecnologie, quindi attraverso l'utilizzo dei nostri ormai strumenti di vita quotidiana, permettono ai cittadini leccesi, e quando parlo di cittadini leccesi non mi riferisco soltanto ai residenti, ma anche chi è cittadino leccese per un fine settimana, per un mese o saltuariamente a fasi alterne nell'anno, avere la possibilità di accedere a un livello di servizi che è in linea, noi ci auguriamo, con le città e con le comunità più moderne, più all'avanguardia, perché si è competitivi nel campo del turismo, anche quando tu sei in grado di offrire quei servizi che i viaggiatori del mondo pensano di poter trovare, che sono abituati ad avere negli ambienti che loro frequentano, cioè chi viene dalla Danimarca o comunque chi ha avuto la possibilità di fare una sorta di benchmark, essendo un viaggiatore per predisposizione rispetto agli standard europei o mondiali, si aspetta dei servizi. Immaginate quanto sarebbe costato per noi, chiedere, dopo aver identificato i bisogni, chiedere al mercato la realizzazione di queste applicazioni. Ingegnere Conte, so che forse ti abbiamo tolto un po' di lavoro, però nessuna amministrazione sarebbe stata in grado, adesso verranno presentati i risultati, di quanto è costato? 9.000 euro? 9.000 euro di incentivo, di premio, proprio per non dire che bastava la stretta di mano e la foto con l'assessore. Noi siamo riusciti a fare questo, cioè il territorio è riuscito a fare questo attraverso queste politiche di co-working, che sono secondo noi occasioni straordinarie, non solo di interconnessione e di relazioni, nello spirito di quello che avevo presentato prima, ma anche e soprattutto occasioni di crescita, efficientando al massimo le opportunità e le risorse. Alessandro mi ha presentato velocemente ieri i risultati, sono secondo me molto significativi. Grazie a questo Lecce sarà una città più al passo con i tempi, grazie a questo Lecce sarà una città dove il livello dei servizi offerti a cittadini residenti e a cittadini saltuari sicuramente molto più alto e anche una capacità di interpello dei bisogni della cittadinanza che fino a ieri, fino alla stagione precedente, quella degli open data, noi sicuramente non avevamo. Per cui io riconfermo al commissario la disponibilità a lavorare su progetti di questo tipo, questa è una terra che sa che adesso sta vivendo un periodo di vacche, tra virgolette, grasse da questo punto di vista, però noi vogliamo rafforzare la nostra posizione perché vorremmo che questo periodo di successo di Lecce e del Salento sia un periodo che possa durare il più a lungo possibile e grazie a iniziative come queste secondo me riusciamo a rafforzare certamente la nostra posizione e quindi le possibilità che questo periodo si allunghi al massimo. L'aspettiamo a breve, a brevissimo, qui a Lecce per visitare Lecce, visitare il Salento ma soprattutto per ragionare insieme all'ente più importante di gestione delle politiche nazionali, anche su questo bisognerebbe aprire e chiudere una parentesi, sono fra quelli che questa dicotomia tra gestione di carattere regionale e gestione di carattere centrale o centralizzato o statale non ha favorito l'efficacia delle politiche di promozione nazionali nel suo complesso, quindi anche su questo io sono per una politica di carattere generale perché l'Italia è diversificata ma si presenta l'Italia, che faccio l'esempio più banale che alle borse internazionali si presentino le regioni slegate tra loro non ha senso perché fra quei 100 milioni di finesi che hanno come il viaggio, per loro il viaggio è un elemento di status come per noi poteva essere la casa o la macchina, per loro è il viaggio quindi veramente sarà un mercato straordinario, vengono in Italia non per andare solo nel Sud Tirolo o nel Salento, probabilmente possono venire in Italia per immaginare di ripercorrere quella sorta di idea anche romantica del Grand Tour che ti permetteva di vedere un paese così diverso ma non così sterminato, quindi c'è la possibilità a tappe di viverlo sino in fondo per cui grazie veramente a tutti i partecipanti a questa iniziativa, grazie per il loro impegno io mi auguro e chiudo con questo che grazie a ciò che hanno proposto molti di loro possono aver iniziato su una strada che è quella anche della realizzazione professionale attraverso applicazioni di questo tipo che possono diventare anche delle vere proprie start up e quindi trasformarsi in iniziative imprenditoriali, in bocca al lupo